Hai dormito un po'? Hai un aspetto orribile. Ma che gentile. Sta cominciando. Cosa? Ho l'età esatta in cui potrebbero manifestarsi i primi sintomi, me l'hai detto tu. Ma cos'è che ti preoccupa? Vedo cose che non sono reali. Quel bambino si è risvegliato davanti ai miei occhi. Anche mia madre aveva le visioni. Alex, i malati di schizofrenia non riescono a esaminarne criticamente i sintomi. Tu lo stai facendo. E poi la mancanza di sonno può causare allucinazioni anche in persone sane. Ma sai che mi succede quando mi addormento? Sì, per questo ti dico di andare in terapia. Tra poche settimane avrò l'età di mia madre quando è morta. Ascolta... Certo, quello sarà un momento difficile. Ma almeno dopo sarai libera e la smetterai di fuggire da te stessa. Magari inizierai ad accorgerti di chi vuole il meglio per te e di chi vorrebbe costruire qualcosa. No, è meglio di no. È meglio di no per il suo bene. Meglio starmi alla larga. Malata Malata